se vuoi avere successo è molto semplice sappi che cosa stai facendo ama quello che stai facendo e credi in ciò che stai facendo will rogers attore pop psychologist di un secolo fa ricorda vagamente il credere obbedire combattere di cui si diceva ma con alcune evidenti sostituzioni perché il credere rimane ma l'obbedire diventa sapere e combattere diventa amare in effetti il successo è legato a tante cause a tanti elementi a tante capacità a tanta spinta che tu ci metti però certamente è essenziale qualsiasi cosa tu faccia prima di tutto avere le idee chiare su che cosa stai facendo sapere qual è la tua idea dove stai andando la strada che stai indicativamente seguendo non c'è bisogno di sapere tutto c'è bisogno di avere chiaro fino in fondo il tuo obiettivo ma importante avere coscienza esatta di quello che fai poi bisogna amarlo questa è una cosa complessa perché si vieta al volta da dire ma quello che sto facendo non mi piace prova ad amarlo no c'è molta resistenza in questo senso ma ad essere schifato di qualcosa e avere una certa simpatia per questa qualcosa ci vuole lo stesso sforzo e l'essere schifato è molto più faticoso da reggere prova ogni tanto per cinque minuti a pensare che quello che stai facendo è bello qualunque cosa sia anche se in quel momento non ti convince un esercizio non cambierà più di tanto ma ti aiuterà a vedere la cosa in un'altra prospettiva e poi soprattutto cerca di fare qualcosa che ami questo evidente se quello che stai facendo proprio non lo ami per niente può dire che bisogna trovare un modo a tutti i costi per sostituirlo e finalmente credici come sempre si dice se non ci credi tu non ci crederà nessuno cioè non puoi basarti sulla convinzione di un altro tu sei quella che vuole farlo non lo vuoi fare se proprio non lo vuoi fare a nessun costo cambia se invece un pochino si credici di più credici fino in fondo perché se vuoi avere successo è molto semplice sappi che cosa stai facendo ama quello che stai facendo e credi in ciò che stai facendo